De tassare tutte le imprese e le aree agricole che producono rifiuti speciali sulla scia di quanto sta già accadendo in diversi comuni d'Italia è la mozione presentata dai consiglieri Demma, Alessandra Ace e Gaetano Orlando che nasce da una sentenza della Corte di Cassazione del 13 aprile 2018. La Corte aveva acceso i riflettori su un argomento che suscita molto interesse sia tra i contribuenti sia per gli addetti ai lavori, quello della tassazione delle aree artigianali e agricole su cui si producono rifiuti speciali. Con la sentenza è stata riconosciuta la possibilità per i comuni di assoggettare a tassazione anche quelle aree di origine artigianale sulle quali si producono rifiuti da attività produttive. Il comune deve però assimilare i suddetti rifiuti speciali a quelli urbani secondo i regolamenti dell'ente. La proposta Demma è quella di introdurre la totale esclusione del versamento dell'Atari per i locali dove si producono rifiuti speciali, in particolare l'esenzione riguarda le attività gestite da carrozzieri, meccanici, fabbri, falegnami, metalmeccanici, tipografi, artigiani e piccole e medie imprese che producono rifiuti speciali. Un passo in avanti nel senso che il regolamento attuale prevede a loro uno sgravio del 40% dell'Atari invece da oggi o comunque da quando verrà attivata e quindi verrà effettuata la modifica del regolamento loro non avranno più uno sgravo ma addirittura la detestazione del rifiuto solido urbano laddove non sia possibile distinguere nel luogo di lavoro l'area che produce rifiuto speciale e l'area invece che produce rifiuto solido urbano. Sono molte le imprese artigiane che saranno coinvolte, una mozione ritengo appunto a misura d'uomo, una di quelle mozioni che la città di Gela deve continuare a produrre appunto per cercare di smaltire e aiutare tutte le imprese e così comunque tutti i cittadini che si trovano in difficoltà. La modifica del regolamento Tari per le imprese che producono rifiuti speciali si auspica che produca e possa produrre in futuro effetti virtuosi. Per beneficiare della detestazione però gli imprenditori dovranno naturalmente provare di smaltire i rifiuti a norma di legge. Ovviamente anche nella modifica del regolamento della IUC appunto sarà previsto che per usufruire di questa detestazione loro dovranno presentare la documentazione attestante lo smaltimento del rifiuto speciale perché ovviamente altrimenti non avranno appunto quello che è il beneficio della detestazione della Tari. La modifica potrebbe essere operativa già dal prossimo anno se prevista nella delibera di approvazione del prossimo piano economico tariffario delle tariffe della Tari da approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.